Ma guarda te se dovevano spostarmi la riunione di Napoli a domenica. Fammi almeno trovare un bel albergo. Uno dalle parti dell'aeroporto, così non perdo tempo. Vicinissimo all'aeroporto. Fammi vedere. Questo mi sembra più elegante. Più raffinato. Sai che c'è? Visto che sono a Napoli me ne cerco uno sul mare. E ci porto pure mia moglie. Paginegialle.it Dritti al punto.